Domani, primo decembre, ricorre la giornata mondiale contro le AIDS, promossa dalle Nazioni Uniti. Milioni di persone convivono con questa malattia e solo la metà di essi ha accesso a terapie e salvatiche. Invito a pregare per loro e per i loro cari e a promuovere la solidarietà perché anche i più poveri possano beneficiare di diagnosi e cure adeguate. Faccio appello infine affinché tutti adottino comportamenti irresponsabili per prevenire un'ulteriore diffusione di questa malattia.